Ragazzi siamo in questo video, oggi andremo a vedere i migliori clutch di fortnite di sempre Migliori 1 contro 4, vediamo un po' che cosa succederà Ok Allora c'è questo con la mitraglietta, ok ucciso, così semplice Cade dalla scala e lo uccide mentre cade, mamma mia incredibile Bravissimo, un applauso Abbiamo una ragazza che usa la fiocina Non lo sa neanche lei che cosa ha fatto in realtà Infatti sta dicendo ma come ho fatto, ma che ho fatto, mi sono sbagliata, mamma mia Ok abbiamo questo che sembra un po' a me, un po' più Non lo so Esce dalla safe con uno di vita C'è questo che Ok 51 ne uccide 1, modifica arcade, giù Esplode Lancia razzi Se ne trova 7 davanti Esce dalla safe Non uccide un altro Spara Continua a sparare Non uccide un altro Ne arriva un altro Spara Non uccide un altro Non finiscono più Spara Spara E ne uccide un altro Continua a arrivare Guardate Spara E ne uccide un altro E vince Mamma mia Bravissimo Bravissimo Qua abbiamo Sime Fanny 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 Che ne uccide 3 Granata Ne uccide 4 3 3 O 3 o 4 Vabbè Bravissimo Comunque 100 Preciso Arrivano gli altri Si fa itare Male Apre il muro 80 Trappola Not a heal Adesso abbiamo 72 ore Che non so chi sia Pesca un pesce all'ultimo secondo Quella è fortuna In effetti Bravo Mongrel Lancia razzi Occhio a lancia razzi Che è un'arma a doppio taglio Ok No invece 1 2 3 E Li fa tutti Bravissimo Ok Questo è Dottor Lupo Lo riconosco Abbastanza bene Spara un pomodoro In realtà Sembrerebbe Vabbè Non era così Difficile Stavano sotto Stavano fermi Vabbè Comunque Ok 1 di vita Incredibile Bugga Spacca un lama Ok con la granata Ne uccide 3 4 Quanti ne uccide Vediamo un po' Tiene la granata 1 2 Ok Ne ha uccisi 2 Ne ha uccisi 2 Pensavo peggio Lo mette una granata Lo intrappola E lo atterra Esce Mitraglietta Altra granata Scappa Mitraglietta Quanta gente c'è E ne uccide un altro Ne ha uccisi tutti Anche lui Si trova il nemico Da dove è uscito quello No ragazzi Questa è da riguardare È da riguardare Torniamo indietro Da dove è uscito quel nemico Da sotto Va bene Non facciamo domande Non facciamo domande Il nemico è uscito da sotto Non ci interessa Ok Ha finito il materiale Ma lo uccide comunque Con l'ultimo colpo A disposizione Bravissimo Ah anzi no Ne arriva un altro Cecchino Boom Preso Mitraglietta Bravissimo Allora Non sto capendo niente Tutte costruzioni A caso Muro Spari Sì Fucile a pompa Preso 9 di vita Taglia Boom 99 Arriva un altro C'hai uno di vita 9 190 Ok questo è andato C'è un altro Andato Appalettate proprio L'ha preso L'ha preso Appalettate Finchè non muore 144 Morto Vediamo un po' Un altro Eh stavolta Mi sa che non ce la fa 16 di vita Ne sono rimasti due Ok uno ucciso L'altro Anche L'altro anche Attenzione Attenzione Bravo Un altro 180 140 Porche 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 4 Bravo 21 Attenzione TQ Lancia razzi Comunque questo non sembra proprio così forte Insomma Sta sparando col pompa tattico Anche da 200 metri Ok ha cambiato arma infatti Ha cambiato arma Ce l'ha fatta Vediamo Questo è sempre Buga Con il suo cecchino Scende Granate Perde 6 di vita Ma non penso sia un problema per lui Non ho capito la situazione Cioè Non ho capito che cosa ha fatto Di preciso Ok nuoto Mentre nuota Bravo 3 kill Così Questo è il vecchio palazzo di pinnacoli Che bello Guardate che bello Guardate Con la trappola Easy Hittato Scende Mitraglietta da sopra Entra Pompa Va bene C'è Xever Che Edita i muri Si copre C'ha 2 di vita Giustamente C'è la safe E prende 50 di vita Dalla safe Questo non è Questo non è culo di più Ok Grande fuga Questa Devo dire Abbiamo sempre quella che pesca con la fiocina Per sbaglio Non fa Sta dicendo Non ho giocato io Era un video Ok Eric Pompamietraglietta 3 198 Bravo Avrei fatto la stessa faccia Andiamo con la prossima kill di Siper Che ci fa vedere come si editano i muri Ok E come si vuole la via Per sbaglio penso Power Ci abbiamo il powerone nazionale Che pesca Lo pesca E il powerone lo fa fuori Ok Sei ritrovato nel box con 3 bot Che siamo in creativa Anzi no Edita 100 Riedita Come fai edita così Non facciamo domande Io sono troppo forte per loro Eh vabbè io avrei fatto di meglio in realtà Dai su Tom Non ti vantare che io avrei fatto di meglio Questo si suicida tantissimo Ah invece no Che clutch è questo Con lanciarazzi Pompacose Granate Penso che il video può finire qui Noi ci vediamo in un prossimo video Nella prossima live Da Rollo è tutto Ciao Noi ci vediamo in un prossimo video 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 Noi ci vediamo in un prossimo video